Buongiorno a tutti, oggi è martedì 24 novembre, ascoltiamo il Vangelo secondo Luca capitolo 21 versetti dal 5 all'11. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio che era ornato di belle pietre, di doni votivi, Gesù disse verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. Gli domandarono, maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse staranno per accadere? Rispose, badate di non lasciarvi ingannare, molti infatti verranno nel mio nome dicendo sono io e il tempo è vicino, non andate dietro a loro, quando sentirete di guerre e di rivoluzioni non vi terrorizzate perché prima devono avvenire queste cose ma non è subito la fine. Poi diceva loro si solleverà nazione contro nazione, regno contro regno e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie, pestilenze, vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi nel cielo. Il Vangelo di oggi ci consegna due consigli da tenere sempre presenti nella nostra vita, tenerli preziosi nel cuore proprio come criterio di discernimento in ogni occasione, particolarmente quando succedono cose che ci perturbano, minacciano di toglierci la pace. Questi consigli preziosissimi del Signore emergono dal testo come elementi positivi in un contesto di parole che annunciano disastri, inganni, guerre, carestie, pestilenze. Ecco la pandemia che stiamo vivendo potremmo benissimo inserirla senza problemi in questo elenco di disastri da cui emergono i consigli di Gesù e i consigli di Gesù sarebbero sempre quelli. Badate di non lasciarvi ingannare e non vi terrorizzate. Quindi imparate a restare fermi nella verità, questo vuol dire badate di non lasciarvi ingannare, restate fermi nella verità per non lasciarvi ingannare da chiunque e allontanate da voi e quindi allontaniamo da noi tutto ciò che ci fa paura. Perché la paura non viene da Dio. Vigilare, stare attenti, cercare la verità, sì, però senza terrorizzarsi, cioè senza che la paura prenda il sopravvento sulle nostre vite. Quando siamo in una situazione di paura è facile essere ingannati, è facile entrare in uno stato di confusione che ci porta a non sapere più non solo che cosa ci succede intorno, ma proprio chi siamo noi. Ecco questo che succede quando siamo impauriti e questo non possiamo permetterlo, non possiamo permettere che ci accada questo sconvolgimento, questa confusione, perché a quel punto saremo noi stessi la nostra rovina. Invece oggi Gesù ci insegna come possiamo restare intatti, solidi, saldi, come restare in piedi anche in mezzo alle prove, alle catastrofi. E questo vuol dire proprio non non terrorizzarci, non permettere che qualcuno ci inganni. Significa proprio restare nella pace, restare nella pace, scendere in profondità nel cuore e stare lì con Gesù, sapendo che custodire la pace è stare con Gesù, radicarsi lui non è rassegnazione ma è atto di fede. E vedete quando a Gesù viene posta la domanda quando succederanno queste cose e quali sono i segni? Ecco, egli risponde non con indicazioni temporali, non indicando questo insegno, quest'altro insegno, ma con indicazioni interiori, mostrando delle vie profonde interiori, a dire che questi consigli ci serviranno sempre su questa terra. Sono come tutti i mali che in realtà ci troviamo a vivere, perché le epidemie, i virus, i disagi, le prove ci sono sempre, ma sono come tutti i mali in realtà che ci troviamo a vivere in ogni tempo e che se ci pensiamo bene sono proprio le situazioni che possono insegnarci verità più profonde. Scendere nel cuore dove nessuno può atturbarci o ingannarci e credere che nonostante tutto crolli noi possiamo ancora andare avanti perché tutti i mali passeranno, ma la pace, l'amore, ecco, non passerà e nessuno potrà mai sradicare la pace dal nostro cuore, a meno che noi non lo vogliamo. Allora è questa verità che oggi il Vangelo ci insegna ed è ciò che ci fa vivere oggi, continuando a sperare in un futuro migliore. Chiediamo a Gesù oggi in questa liturgia in cui ricordiamo i santi Andrea Dunglac e compagni, martiri vietnamiti, nostri fratelli nella fede, ecco chiediamo al Signore che per loro intercessione possiamo rafforzare, radicare in noi il dono della pace interiore, profonda, che per mezzo della fede della Chiesa possiamo cogliere la pace, che ci apre nuove prospettive, nuove vie, che ci toglie la paura, ci rende il cuore più leggero, capace di affidarsi senza timore per vivere anche questo giorno nonostante tutto quello che ci succede, nonostante il virus, l'epidemia e la pandemia, tutto quello che succede intorno, ma vivere questo giorno col sorriso. Buona giornata.